Dal Centro Culturale Leonardo da Vinci a Sanona di Piave questa sera un importante convegno dal tema la diagnosi precoce per il tumore al seno. Sono in compagnia del dottor Madeischi che ha organizzato il convegno. Dottore, quanto è importante la diagnosi precoce? Noi ci siamo battuti da anni, lei lo sa perché ci siamo visti spesso. Credo che la diagnosi precoce, la prevenzione, è la vincente per tutti i tipi di tumori e anche delle altre malattie. Per la mammella attualmente è in aumento sia nella provincia di Treviso che nella provincia di Venezia è sempre più importante e quindi noi stiamo organizzando, la settimana scorsa siamo a Sastino, oggi siamo qua facciamo l'incontro, alla domenica facciamo le visite gratuite alle donne che vengono e credo che sia un'utilità per la popolazione. Assolutamente. Dottore, a quale età all'incirca è bene per una donna sottoporsi a degli esami per prevenire queste forme di tumore? Lo screening va dai 50 ai 70, però tenendo presente che circa il 28% dei tumori sono nell'età dai 40 ai 50 io credo che dai 40 ai 50 bisogna già iniziare, specialmente quelli che hanno certi rischi familiari e hanno avuto qualche parente stretto. Oggi sentiremo anche le testimonianze di due persone operate e quindi sentiremo l'esperienza e si capisce che bisogna volersi bene in questo senso. Un intervento quindi precoce, una diagnosi più precoce può salvare la vita perché vedo appunto anche nel monitor per morire c'è sempre tempo. Il tumore alla mammella, il tumore al seno non è più pericoloso come una volta o ancora lo è? Il tumore alla mammella si guarisce bene, si arriva più dell'80%, sentite un oncologo che citerà il 90% e quindi è un tumore che si può vincere proprio arrivando quando è localizzato, quando è in stadio precoce e che non si è diffuso. Se no, come vedremo stasera, la situazione porta proprio anche alla morte. Come può una donna, diciamo, riuscire a capire anche da sola che c'è qualcosa che non va? Ma io credo che, rimango se vogliamo dire antica, l'autoproporazione la donna dovrebbe farla una volta al mese nel periodo dopo il ciclo mestruale e poi farsi vedere dal proprio medico il quale la manderà eventualmente lo specialista, gli farà fare gli esami radiologici, quello che è. Però la persona deve imparare a guardarsi, a vedersi. Tenete presente che circa l'80% dei tumori vengono scoperti dalla donna. Allora facciamo così che la donna lo scopri il prima possibile e arriviamo a risolvere il problema.